C'è che in mezzo al mare Mediterraneo ormai da troppo tempo è qualcosa che è inaccettabile decisamente inaccettabile il primo passo forse sarebbe quello di piantarla di considerarli soltanto dei numeri perché ormai sono diventati dei numeri leggiamo sui giornali, sui social ieri 9 morti, 10 morti, 20 morti Cristo di Dio sono esseri umani non sono dei nomi sono esseri umani Grazie Maria 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 Fai il mio figlio, a il mio papo sanno che è fuori, qui è tornato lì Maria di Quarto Salvo 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 Maria di Quarto Salvo